E noi continuiamo velocemente con i premi speciali, ecco il microfono che va e viene, ci siamo, perfetto. È venuta a trovarci una delle più importanti casting director italiane, nonché bella donna, Simona Tartaglia. Ecco, la Simona ha curato i casting, fin dall'85, numerosi film, pubblicità, fiction, e hai avuto la possibilità di scegliere e provinare tantissimi attori. Chi è passato da te? Che consigli hai dato? Tantissimi. Eccolo. Allora, tantissimi perché sono molti anni che faccio questo mestiere. Avevo cominciato come aiuto regista e un tempo l'aiuto faceva anche il cast con il regista. Poi a un certo punto, quando il nostro lavoro è cambiato, non era più una puntata da un'ora e mezzo, un film da un'ora e mezzo, ma diventavano serie, i due lavori si sono scissi e io ho scelto di fare casting, che per me è affascinante perché mi permette di lavorare con gli attori, di conoscerli, di conoscerli, di capirli. È veramente un lavoro affascinante. Sì, sono contenta di questa scelta alla fine. Mi manca il set, però. Certo. Però ecco, quali erano i propri consigli specifici? Che magari, sai, sono delle piccole sfumature, magari chi si muove troppo nei primi piani, chi sbatte troppo gli occhi. Ci sono delle piccolissime, impercettibili cose che invece, magari sentendosele dire, si può migliorare. Beh, sicuramente il lavoro con la macchina da presa richiede una conoscenza molto diversa da quella che è il lavoro attoriale in un palcoscenico. Il rapporto, la distanza con il pubblico e per un attore di cinema il pubblico e l'obiettivo è molto diversa. Quindi bisogna interiorizzare tutto. Il mio grande consiglio è essere e non fare, che è fondamentale per un attore di cinema. E anche come dicono in America, less is more, less is better. Almeno fai e meglio è. Certo. Ma sono cambiate anche proprio le modalità dei casting, perché mi ricordo per esempio dal cartaceo, adesso va molto più il book online. Assolutamente. Comunque lo showreel rimane sempre uno strumento prezioso. Certamente. Ci sono adesso molti mezzi per farsi vedere, farsi conoscere in video, chiaramente. Anche perché, devo dire, onestamente le foto di un tempo mentivano tanto. Sì. Deve sorpreso tremendo quando arrivava l'attore in carne ed ossa e tu avevi preselezionato sul cartaceo una foto o qualcosa del genere. A premiare Simona Tartaglia vorrei che fosse un regista raffinato che è venuto a trovarci, che fa opere di denuncia, di memoria storica. Marco Risi. Buonasera. Eccola, la consegna. È tutta una sorpresa. Una battuta anche da lei, magari per ricordare. No, io non sapevo niente di queste cose, mi hai colto di sorpresa, però sono ben contento di premiare la bravissima Simona, che ha detto delle cose giuste, le più giuste, sentite fino a questo momento su questo palcoscenico. E poi, grazie dell'ospitalità, Teramo ci ha accolti molto bene, con la banda addirittura, complimenti a lei, futura grande attrice, deve andare nell'agenzia di Simona, però io ero qui per Marco Norato. Esatto, quello volevo chiedere, un ricordo anche visto che ho lavorato con lei. Eh sì, abbiamo fatto gli ultimi miei quattro film e l'ultimo film insieme e insomma per me è veramente un'emozione forte parlare di lui e quindi non lo farò, però so che è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Grazie, grazie Simona Tartaglia, grazie a Marco Risi. Grazie, grazie a Marco Risi. Vorrei che a parlare fosse lui, padre Virginio Fantuzzi, ecco il microfono. Intanto cosa ne pensa di questo premio che è unico nel suo genere dedicato agli autori della fotografia nel cinema? Credo che la fotografia nel cinema sia la cosa più importante che c'è e quando è bella la fotografia vuol dire che il film è bello. C'è un suo film di lezione, un suo film preferito che magari contiene anche degli insegnamenti morali? Beh, otto e mezzo. Racchiude tutto. Grazie. Allora, anche per lei una targa ricordo di questa diciassettesima edizione del premio Gianni di Venanzo. A consegnarla sarà la dottoressa Tiziana di Blasio, storica della Chiesa e pubblicista per le edizioni Paoline. A consegnare la targa a padre Virginio Fantuzzi per il suo amore per il cinema e grazie per far parte anche di questa giuria. Eccola. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie. E noi torniamo alla televisione. Invito sul palco del premio Gianni di Venanzo, Gianfranco Fiore. Ora capiremo con lui qualcosa in più perché, insomma, è una mente vulcanica e ce ne darà prova poi più tardi. Ma per i suoi cittadini è Fiore Donati. Che significa? Che ci rappresenta? Ci racconti? Io per... che cosa raccontano i miei concittadini? No, Fiore Donati. Ah, è il cognome. È il cognome. Sì. Mi dicevano che c'era un aneddoto particolare. Il nostro regista ne sa qualcosa in più. Non so chi ha messo in giro l'aneddoto particolare. Comunque, vabbè, lei è figlio di... Ah, ecco. Ecco, non è un aneddoto. No, questo no. Questo è la realtà e anzi, ci fa onore comandante partigiano di giustizia e libertà, Adelchi. Invece ha una bella eredità che si porta. Veniamo, ecco, più a favore. Tra le fotografi impazziscono. Come sempre, quando fai un po' il coscietto. Mi dica. Vediamo le immagini. Vediamo le immagini. Vediamo le immagini. Siamo qui in piazza Montecitorio, in attesa di una personalità. In questi giorni al centro di rilacci polemiche e sconcertanti interrogativi. Oh, ma, eccolo. Signor Ministro, mi consente alcune domande per conto di TG3? Perché si sbrighi, per favore? Lei è al corrente delle gravi accuse che le sono state mosse riguardo ai fondi sottratti alle mense degli orfani. Si parla di 200 miliardi? Certo, certo che ne sono al corrente. Ecco, e non crede che sarebbe opportuno, in attesa di conoscere la verità, di dare le immediate dimissioni dalla sua alta carica? Giovanotto, dimettermi? Mai. Questa sarebbe una mossa sguariata. Lei vorrebbe dire che le sue dimissioni sarebbero un implicito riconoscimento delle accuse. Ma no, no, io non mi dimetto per combattere la mia battaglia da una posizione di privilegio. Dal mio posto, forse agevolmente controllare l'inchiesta, inquinare le prove, corrompere i testimoni, posso insomma fuorviare il corso della giustizia. Onorevole, ma non è irregolare, dico contro la legge. No, giovanotto, io le leggi le rispetto, e soprattutto la legge del più forte. E siccome in questo momento io sono il più forte, intendo approfittarmi, è il mio dovere principio. Ma dovere verso chi? Verso l'elettorato che mi ha dato il voto per ottenere da me posti, licenze, permessi, appalti, perché li spalleggi in evasioni fiscali, in amministrazioni di fondi neri, crolli di dighe malcostruite, scandali, ricatti, contrabbando di valuta. Scusi, ma che cacchio sta dicendo? Io sto dicendo che l'elettorato vede in me un prevaricatore. Se invece voleva scegliere un uomo probo, onesto e per bene, ma che andava, i voti a me? Addio ragazzo. No, ma andiamo. Ma tu, ma che figlia, nemmeno. Vabbè, insomma, possiamo svelare l'arcano, visto abbiamo visto delle immagini importanti di una trasmissione più che, ecco. Di Blob, sì. E lei è uno dei redattori? Sì, degli autori, diciamo. Ecco. E mi sembra un bel merito, no? Oddio. All'inizio si parte con l'entusiasmo, poi dopo anni che si è costretti a guardare le cose più orribili in televisione diventa una disperazione assoluta. La realtà supera sempre la fantasia, insomma. Però la sua vita, insomma, dedicata al cinema, televisione, anche una conoscenza con una poetessa importante che magari ha contribuito al suo background artistico. Una vita a tutto campo nell'arte. Potesse imparare, Amelia Rosselli. Sì, insomma, non abbiamo quasi mai parlato d'arte o di poesia, insomma, siamo troppo amici per parlare di letteratura. Però la targa l'accetta, eh? L'accetto, sì. Meno male, va. In carità, ringrazio. Gliela facciamo consegnare da Franco Mariotti. Eccolo, Franco Mariotti che ci ha raggiunto, insomma, esperto di cinema, gran cerimoniere, sempre presenti e nelle kermesse più importanti. Che gioia di vederti. Ciao, buonasera. Grazie, grazie ancora Gianfranco Fiore. Ebbene, l'organizzazione del premio Gianni di Venanzo in memoria del grande doppiatore Renato Izzo ogni anno va ad assegnare un riconoscimento ad un importante doppiatore italiano. Quest'anno la scelta è caduta sul grande attore, doppiatore Marco Guadagno. Beh, quanti ruoli per lui ce ne ricordiamo simpaticamente, ma anche come doppiatore, il re leone in cui doppia la Iena Banzai, e poi direttore del doppiaggio del film Rio, di Carlo Saldagna, del film In Time, di Andrew Niccol. Ma insomma, tanti ruoli, attori e doppiatore, non si può scindere da questo, fanno parte di una stessa personalità creativa e artistica, quella di Marco Guadagno. Sì, vorrevo dire che io sono il cugino di Marco Guadagno. No, ti abbiamo riconosciuto. No, perché venivano tutti i fratelli, i padri, i figli. Sei l'originale, i propri digitali. Sì, non lo so, non lo so. Dalla voce si direbbe di sì. Mi ha dato Manuela Morabito, prima un San Pietrino fingendolo per una caramella, ce l'ho tutto incastrato qui, e premio al doppiaggio, non riesco a parlare, è difficilissimo. Vabbè, proviamoci. Dicevi? No, dicevo insomma, tu hai spaziato molto quindi dal cinema, come attore e anche come doppiatore, ma non si può scindere tra queste due vite parallele? Sì, sono tante, diciamo, cinema, fiction, teatro, radio, fanno tutte parte dello stesso mestiere. Poi magari c'è chi fa più uno, chi più un altro, però è sempre la stessa cosa. E tutte le esperienze tornano in positivo, insomma, per accrescere l'una nell'altra, immagino. Speriamo, non lo so. Speriamo. Speriamo che arrivi qualcosa. Vediamo le immagini che ti riguardano. Pure. Mi scusi, ma mi dici dove viene questa macchina? Perché? Come perché? E dentro c'è un pezzo di una 4, un pezzo di una 6, un altro pezzo che sembra di un Iveco. De un Iveco. Questa macchina ha detto l'aborto. È quasi comica. Tu almeno mi freghi. Mino, mandi me a tacchiero. Subito! Che pensa di fare? Intanto io me ne vado via con la bambina. Allontanetemi! Se qualcuno cerca di fermarmi, ce l'avrete sulla coscienza! Signor Renzullà? Renzullo. Mi scusi, io non mi... Può venire un attimo, per favore? Prego. Ma lei è al corrente di chi sia quella signorina? No. Cioè... Sì, ma la conosco veramente da poco. La signorina Gagliarpea è stata denunciata due volte per stalking. Stalking e stalking? Ma questa dica si chiama Gagliarpea. No. Perché chi non me l'ha detto? Lei si chiama Eliana... Eliana... Eliana Rame? Eliana Rame. Ma questa è la psichiatra, è una repubblica. Ma quale è psichiatra? Quella sta in cura da una psichiatra che si chiama così. Ma che mi dice? Ah sì? Ma... Che rapporti ci sono tra di voi? L'ho capito. Che rapporti ci stanno tra di voi? Ludici. Scopato? L'ho capito, scusi. Avete scopato o no? Non c'è stata nessuna propria. Anzulli. Lei non sa quello che sta rischiando. Ecco la donna, la devi allontanare. La donna è dinamite. Lei è per la sua famiglia. Sì. Adesso quando uscite, sia normale. Non so fare una faccia normale? Certo. Ecco, bravo. La saluti e non dica nulla. No. E poi da domani deve sparire. Tanto questo. Beh, insomma, abbiamo capito, no? Quanta arte c'è nella recitazione di Marco Guadagno. Insomma, non era facile anche stare a contatto con Carlo Verdone, vedere tutte le sue espressioni. Ma diciamo che è nata un'amicizia. Allora, lui spesso mi chiama e giochiamo insieme, vuol dire. Poi, devo dire, è un maestro. Ho visto, c'è anche una cosa di un altro amico che ho rincontrato che conosco da quando ero così, nel senso, poi sono rimasto così, però, insomma, che è Vittorio Sindoni, che era il regista del Capitano, che è passato prima e che prima ho salutato e da qui, dal palco, ringrazio insieme a Marco Risi pure, col quale ho lavorato insieme e niente, insomma, c'è tanto da imparare da certe persone. Ecco, tu hai conosciuto anche Renato Izzo. Che cosa provi nel ricevere un premio intitolato? proprio. Eh, qui c'è un po' di emozione e Marco ha taciuto, io provo a dire qualcosa. È stato un mio maestro insieme a Federnaud e Mario Maldesi. Purtroppo sono scomparsi tutti e tre. Sono stato per tanti anni in società insieme a lui, abbiamo fatto tante cose insieme, non solo lavorative, anche nel tempo libero e quindi ricevere un premio in sua memoria è una cosa che, insomma, mi tocca e lo ringrazio. Ciao Renato. Lo ringraziamo con te. A consegnarti la targa chiedo di salire sul palco a Cosima Pagano, direttrice della rivista Terra Monostra. Grazie. Grazie. Eccola, la consegna a Marco Guadagno, attore doppiatore che riceve il premio intitolato a Renato Izzo per questa diciassettesima edizione del premio Gianni di Venanzo. Ciao, e andiamo avanti da un punto all'altro perché in primavera dovete sapere si è svolto a Teramo un concorso di video danza organizzato dall'associazione Electra Creative Arts diretta da Eleonora Coccagna un progetto che si chiama 012 Video in Cantiere e ha visto lavorare insieme sei coreografi e sei videomakers. Ne sono nate così delle opere filmiche molto interessanti perciò gli organizzatori del premio non si sono fatti sfuggire questa occasione e hanno creduto bene di dare un riconoscimento all'opera che ha vinto il concorso e chiamo sul palco l'abbiamo già visto su questo palco Paolo Sorgi vincitore del concorso ma insomma due volte in una sera non è comune questa cosa complimenti poi dagli animali alla danza tu passi con disinvoltura da questi linguaggi totalmente diversi forse opposti no vabbè intanto volevo dire una cosa forse c'è un errore di stampa non so con me c'era pure Fabio Panichi ma chiamiamolo chiamiamolo è bello condividere i premi soprattutto in questo momento a chi lo dedichiamo a te oh grazie l'abbiamo fatto a quattro mani questo lavoro quindi ecco siamo noi due quindi penso sia giusto che ci sia lasciamo parlare le immagini prego grazie a tutti 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 non è difficile raggiungerci per premiare questi giovani intraprendenti che già si vanno ad aggiudicare il secondo premio in questa serata in questa 17esima edizione eccola eccola la targa per voi ancora per Paolo Sorgi ricordiamo il nome Fabio Panichi grazie grazie e grazie a lei dottor Paesani perché sappiamo quanto impegno mette in questa arte grazie grazie ma tenetevi pronti perché non c'è due senza tre scherzo grazie vi potete accomodare complimenti ancora e adesso chiedo alla regia di mandare un video preziosissimo forse l'amore è un covo di assassini e se è così Kerel mi ci attirerà e io quando verrà il momento di soccombere alla mia passione per Kerel ci sarà allora un allarme che suona per me desideriamo che vi risulti chiaro come il marinaio Kerel nato da quella stessa solitudine in cui l'ufficiale rimaneva recluso fosse un personaggio paragonabile all'angelo dell'apocalisse i cui piedi posano sulle acque quanto desidererei che Kerel si rivelasse una grossa canaglia sotto il suo regale sembiante e poi buttarmi i suoi piedi e baciargliele insomma avrete riconosciuto di certo questo film la famosa opera di Rainer Fassbinder Kerel de Brest tratta dall'omonico romanzo di Jean Genet dove lavorava un impareggiabile Brad Davis una fantastica Jean Moreau e un orgoglio tutto italiano come Franco Nero accogliamolo sul palco Franco Nero è con noi alla diciassettesima edizione del premio Gianni di Venanzo eccolo accompagnate dalle note del maestro eccolo come stai ecco il microfono per te Franco insomma il cinema l'abbiamo visto scorre nelle tue vene nel tuo DNA dimmi che cosa è il cinema come ecco io so che questa definizione ti piace che cosa è il cinema allora io l'ho già detto due o tre volte nel passato per me il cinema è come una grande città dove vivono persone di diverso colore e di diverse razze e ognuna di queste persone ha la sua casa e i suoi sogni perciò il cinema continuerà ad esistere finché la gente continuerà a sognare inoltre il cinema vuol dire libertà perché nei paesi dove non c'è libertà non c'è cinema questa è la definizione di cinema ma in quanti film hai recitato tu Franco quanti tra poco saranno duecento no sì ma io sono un privilegiato perché lavoro un po' in tutto il mondo anzi negli ultimi vent'anni il novanta per cento del mio lavoro l'ho fatto all'estero l'ho fatto in Inghilterra in America in Cile in Brasile la Repubblica Shakespeare in Scozia cioè dovunque così che differenze trovi proprio tra il cinema nostrano e quello oltreoceano insomma a parte la produzione che magari insomma ma noi negli anni 60 70 50 cioè il cinema era un'industria sì c'era posto per tutti c'era posto per il cinema d'autore il cinema commedia western polizieschi gialli insomma era un'industria vera oggigiorno si fanno dei film qualche film perché allora c'era il vero produttore c'era un produttore il regista andava dal produttore e diceva sai io voglio fare questo film e diceva va bene facciamo non mi piace allora si faceva coproduzione sempre con Francia Germania e Spagna tutti gli attori ognuno recitava nella propria lingua e poi non ridoppiavamo tutto in italiano e poi loro ridoppiavano in spagnolo così e poi c'era un venditore estero che ti dava il minimo garantito perciò un film si poteva fare un film in 14 13 15 settimane poi piano piano con l'avvento della televisione privata cioè nell'81 che noi avevamo 13.000 sale in Italia 13.000 sale quelle 13.000 sale diventarono 1.600 1.600 difatti adesso sai quanto ci sono 3.700 schermi non sale le sale allora erano di 1.200 1.600 1.300 adesso gli schermi sono 100 posti 50 30 capito allora adesso non c'è più il vero produttore i produttori sono i funzionari funzionari RAE funzionari Mediaset funzionari del Ministero e loro che leggono leggono queste sceneggiature perché oggigiorno non puoi fare un film se non hai il diritto d'antenna allora in Italia allora che succede che i funzionari cominciano a dire ma questa scena è troppo forte sai poi va in onda alle 8 e mezzo alle 9 l'audience insomma praticamente taglia qua taglia su l'opera dell'autore viene un po' castrata cioè c'è un grande compromesso oggigiorno ecco perché il cinema non sarà più lo stesso quindi sei al momento un po' pessimista diciamo no no io ripeto mi considero sempre molto italiano anche se ripeto quando vengo qui io vengo solo per aiutare i giovani registi infatti ne ho aiutato uno anche qui Cristiano Donzelli dov'è? eccolo della vostra città alzati per avere un saluto ho avuto con lui un filmetto chiamato storie di lupi ed è molto molto talento questo ragazzo da questo si vede anche la tua generosità d'attore insomma vediamo un video che ti riguarda va bene un filmetto chiamato Buongiorno, tenente. Ciao, che re. Devo dire che stai facendo proprio un ottimo lavoro. Senza che io ti dicessi niente, ti sei offerto di fare la corvè. Chi ti ha ordinato di spalare il carbone? Nessuno, tenente. Non trovi che lavorare per me è più credevole? Certo, tenente, molto di più. Ma oggi mi sono offerto volontario per sostituire un compagno. Potevano trovare qualcun altro. Guarda come ti sei conciato. Trovi davvero che tanto piacevole ingoiare polvere? No, tenente. Ma... Sì? Che volevi dire? Niente. Questa era un'altra scena da Querelle, proprio questo film. L'allora direttore della mostra disse, nonostante la giuria composta da vari nomi, non sono riuscito a far premiare questo film, ma un giorno questo film avrà un posto importante nella storia del cinema. Però in quel momento che successe, forse Venezia non era ancora pronta a ricevere la grandezza di questo film? Non ero a Venezia per il film, però so che il presidente era quel regista... Carnet, Carnet. Carnet, sì. Marcel Carnet, mi sembra. E lui naturalmente voleva dare, insomma, il premio, ma... erano posti un po' tutti gli altri. E' successo uno scandalo, mi ricordo. Io poi ero lì a Venezia, non per questo film, però per altri quattro film quell'anno. Avevo Grog di Francesco Laudodio che fece debuttare io. Scusate, oggi mi è andato di traverso una cosa... Io ho mangiato una cosa in fretta al bar e qualcuno mi ha parlato, mi è arrivato qua. Allora, avevo Grog di Francesco Laudodio che fece debuttare. Poi avevo Il Falcone, che è l'eroe jugoslavo, diretto da un grande regista jugoslavo, Vatroslav Mimica. Poi avevo... Beh, poi sì, Karel, ma avevo un altro film con Fassfinder, che noi non abbiamo mai visto, tipico italiano. Io ho una trentina di film fatti nel mondo che non sono mai stati visti qua. ma con grandi registi, non è che poi... Premi Oscar come Michael Kakoyannis, non so, io ho fatto Valentino, fa conto, no? Rodolfo Valentino, italiano, visto in tutto il mondo, l'unico paese che non è stato visto qua per un disguido. Poi se racconto la storia, vabbè, è meglio non parlare. Dovremmo fare una serata a posto. Poi, non so, il colpo di stato in Italia, La Salamandra, il romanzo di Morris West, con un cast stellare, a parte io come protagonista, ma Anthony Quinn, Eli Wallach, Martin Barson, Christopher Lee, anche Claudia Cardinale, ma insomma, tantissimi film non sono stati visti. Allora, questo è un altro film che feci con Fassfinder prima che lui morisse, che si chiama Kamikaze 89, dove faccio un personaggio completamente differente, non faccio un pazzo con un occhio di un colore o un altro di un altro. E mi ricordo che Andai in quell'occasione e ebbe delle critiche eccezionali, naturalmente, in Italia non ne è mai stato visto. Questo è tipico, vabbè. Noi vogliamo consegnarti un ricordo di questa diciassettesima edizione del premio Gianni di Venanzo. Grazie per essere stato con noi a Franco Nero. Chiamo il presidente della Banca dell'Adriatico, Gian Domenico Di Sante, a consegnare il premio. Ecco che sale il presidente della Banca dell'Adriatico, Gian Domenico Di Sante, per consegnare questa targa, questo ricordo, a Franco Nero. Grazie, grazie. Buonasera. Un orgoglio il nostro italiano. Aspetta, diamo il microfono. Facciamo così. Beh, niente, io dico soltanto che sono felicissimo per questo onore che ricevo nel poter premiare un attore di livello che onora l'Italia, insomma. E beh, Banca dell'Adriatico è vicino da sempre a Teramo Nostra, io mi rallegro con gli organizzatori, perché portano avanti il nome di Teramo, e onorano il mondo del cinema e il mondo delle persone eccellenti. Adesso è il momento in cui riusciamo a seguire i percorsi di eccellenza e io credo che Teramo Nostra stia facendo tutto il possibile, ne guadagna Teramo, ne guadagna il percorso degli eccellenti. Le nostre eccellenze italiane che vengono messe in evidenza, valorizzate anche da questo premio minimo. Grazie, grazie, grazie a Franco Nero di cuore, ciao. E noi siamo giunti alla Madrid.